Al Teatro Vetra di Milano fervono i preparativi per l'evento finale di Be Heroes. L'ultimo capitolo di un viaggio iniziato un anno fa, nato da un'idea di Fabio Cannavale. Ogni grande impresa ha una storia. Io da quando ero bambino avrei voluto fare l'esploratore. L'esploratore moderno che cos'è secondo me? È l'innovatore. E questa è la storia di Be Heroes. Questo paese ha bisogno di imprenditoria, di voglia di fare, di voglia di crescere. La selezione è stata dura. Di 500 start-up, solo 32 hanno potuto presentarsi di fronte ai selezionatori esigenti. Non mi è chiaro come fatte i soldi. Mi dà l'idea dello shampoo a secco, no? No. E solo 12 hanno potuto continuare il loro viaggio Complimenti. Speriamo di fare una buona strada insieme. E accedere al percorso di accelerazione. Be Heroes è riuscito a radunare quello che è il meglio dell'ecosistema italiano dell'innovazione. Be Heroes li ha divisi in quattro categorie. Lifestyle. Consumer Product. Business Innovation. Sharing and Social. E messo a disposizione degli aiutanti d'eccezione. I Supercoach. Una dota importante dell'imprenditore è essere brutalmente onesto con se stesso. Lo start-upper deve avere quel pizzico di squalo. Credo che la vera sfida oggi sia quella del pensare davvero in grande. Io preferisco sempre diciamo Go Big or Go Home. E sul percorso hanno incontrato nuovi alleati con cui affrontare altre sfide. Ci sono tutti gli elementi per approfondire una collaborazione fra di noi. E l'ho detto, bene ci investo. Ma ogni eroe deve compiere il proprio viaggio fino in fondo. Devi metterti in gioco sulla parte umana. A volte stringendo i denti. Ci dicevano che eravamo matti, che non si poteva vendere una casa online. Invece non è vero, si può fare. Non arrendersi mai, andare sempre avanti. Lavorando sempre sodo e sfruttando ogni possibilità data. 200 aggiudicato a Oval. Senza mai perdere di vista il sogno che rende tutto possibile. Gli eroi che hanno guadagnato la finale di Be Heroes sono... Homepal. Io sono carico a pallettoni, voglio cambiare qualcosa. Fit Prime. Alla fine è sempre un percorso che ha come obiettivo la crescita personale. Star to Impact. L'obiettivo è quello di aver lasciato un segno. Insomma, cambiare il mondo. 3B. Quando mi sveglio nel giorno capisco che è importante quello che faccio. Washout. Voglio vincere Be Heroes perché voglio vincere tutto. Tutti sognano il massimo perché il premio a cui ambiscono è lo stesso. Un investimento finale di 800.000 euro. Ogni finalista ha già siglato un contratto, ma solo la firma di Cannavale potrà renderlo valido. Quale sogno si realizzerà stasera? Spero solo che chi vinca Be Heroes possa avere quel successo che merita. Be Heroes. Nuovi eroi per nuove imprese. Oggi è il grande giorno. Mancano solo gli ultimi dettagli. Alla serata finale sono stati invitati imprenditori affermati ed emergenti. Tutto è pronto per conoscere il nome del vincitore della prima edizione di Be Heroes. Buonasera a tutti. Questa è la finale di Be Heroes. Siamo qua stasera per scegliere la migliore startup italiana. Non vedo l'ora di salire sul palco. Sono stranamente emozionato. Non è un'emozione che ti blocca, quello in cui hai il nodo in gola. Ci tengo a dire che Be Heroes è un progetto molto ambizioso, che è andato fortunatamente al di là delle aspettative. Sono estremamente grato a Intesa San Paolo, che è stato un partner fondamentale dell'iniziativa. In questi quattro mesi sono orgoglioso di annunciare che le startup che hanno partecipato a Be Heroes hanno raccolto 10 milioni di euro di finanziamenti in capitale. Quindi Be Heroes può veramente essere una miccia per l'ecosistema delle startup in Italia. Iniziamo a presentare le startup. La prima startup presentata al pubblico in sala è un'azienda che sta dimostrando come la rivoluzione digitale possa innovare mestieri tradizionali. Sono Cristian Padovan, ho 30 anni, sono il CEO di Washout. Ormai da due anni mi occupo di lavare auto. Washout è un servizio di autolavaggio a domicilio prenotabile tramite applicazione. Però la vera proposizione di Washout alla fine è quella di ridare il tempo alle persone. E lo facciamo lavando auto. Sono sempre stato un uomo del fare. Io volevo fare, fare, fare. Volevo creare la mia indipendenza lavorativa, crearmi la mia carriera. L'idea di Washout è nata mentre mi occupavo di tutt'altro. Facevo i sales manager in una realtà industriale. Uno dei miei più cari amici, che poi adesso è il mio socio, mi ha chiamato perché stavo lavorando a Dubai e aveva appena scoperto i prodotti waterless. Quando sono partito pensavo che il business era business. Più vado avanti, più mi rendo conto che questa cosa non è vero. I valori che ho capito col tempo, che dovevo inserire all'interno di Washout e che erano fondamentali, era la capacità di comprendere il prossimo, supportarlo, aiutare a dare il meglio. Costruire un bel ambiente di lavoro, costruire una bella squadra che è contenta di quello che fa, permetterà a Washout di crescere al meglio, offrendo un servizio di qualità ancora migliore. Alla fine è scontato dirlo, ma quando ci si diverte si lavora meglio. Iros ci ha aiutato in tante cose. Io oggi sono qui perché se riuscirò a dare un piccolo aiuto a qualcuno di voi, per me è una ragione di vita. La prima, mettendoci di fianco Dina, che oggettivamente è stata una mentor incredibile. Come vado? Benissimo. Cosa dici? Perfetto. Dina mi ha sempre fatto intendere che stava nascendo un interesse da parte sua e poi alla fine mi ha detto sì, sono convinto, il progetto è veramente bello, mi piace, vorrei parteciparvi. Vogliamo vincere. Il punto d'arrivo non esiste, è sempre più in alto, non ci deve essere un punto d'arrivo. Diciamo un punto alle stelle e arrivaci il più vicino possibile. Più meno questa è la mia filosofia. Ciao Fabio. Ciao. Come va? Bene. Sei emozionato? Un pochino, stasera sì. Dopo un lungo percorso pensavo di essere pronto a tutto, ma alla fine il pubblico un po' mi agita comunque. Senti, cos'è che in questi mesi hai preso di più da virus? Cioè dove ti abbiamo aiutato di più? Farci capire come i clienti sono fondamentali, farci capire come vanno trovati, mantenuti, trovarne di simili e coccolarli sempre. Con i tuoi clienti come fai a misurare la qualità del servizio che dai ai tuoi clienti? Prima di tutto ce lo facciamo dire da loro con un servizio di rating direttamente sull'applicazione. Poi facciamo dei controlli sorpresa sulle auto, monitoriamo sempre il lavoro dei nostri wash. L'autolavaggio con i prodotti waterless è qualcosa di nuovo. Quindi dobbiamo, fin dal primissimo lavaggio, far capire ai nostri clienti quanto il risultato finale sia impeccabile, addirittura meglio del lavaggio tradizionale. Anche noi abbiamo fatto un testo sorpresa. Ah sì? Vediamo la clip. È uno dei paladini della rivoluzione digitale in Italia. La sua prima start-up è cresciuta fino a diventare un'azienda da milioni di fatturato. Il tester di Washout è Alessandro Fracassi. L'autolavaggio, inteso come business, è nato praticamente insieme all'auto e poi è evoluto negli anni fino a diventare quello che conosciamo oggi. Ma due cose sono rimaste costanti. La prima, che qualcuno l'auto la deve portare all'autolavaggio e magari fare anche la coda. La seconda, che si utilizza l'acqua o il vapore. Bene, Washout sta cercando di rivoluzionare questo business andando a toccare proprio questi due punti costanti. Vengono a domicilio e non usano l'acqua. Ma come se la caverà contro i metodi tradizionali? Oggi voglio metterlo alla prova. Andiamo all'autolavaggio. Che vi dicevo? Siamo in coda. Ok, l'autolavaggio ha fatto il suo mestiere e l'auto appare pulita anche se qualche dettaglio potrebbe essere migliorato. Adesso tocca a Washout. E mentre aspettiamo il washer sporchiamo apposta l'auto. Bene, è arrivato il washer. Direi che in orario 11 e mezzo esattamente quando l'avevamo prenotato. Io sono qui nella mia postazione privilegiata e potrò guardare il lavoro che fa. E ci sono anche un po' di telecamere nascoste in giro anche dentro la macchina da cui potremo osservare il lavoro. Si è tolto il giubbotto. Sotto però non ha la maglietta di Washout. Mi aspetterei che potessi invece fare pubblicità mettendo il logo in bella evidenza. Ci sta mettendo un po' tanto. Credo che Washout si sia abituato allo sporco cittadino. Noi abbiamo veramente esagerato. Il washer ha finito. È stato un lavoro artigianale che è riuscito ad andare a pulire anche quei dettagli che l'autolavaggio industriale aveva dimenticato. Possiamo essere soddisfatti. Lo shampoo a secco, almeno per l'auto, è promosso. Una bella sorpresa. La prima cosa che ho fatto entrando qua è stato andare a chiedere se aveva provato il lavaggio. Ha negato. Lui era quello che aveva più dubbi di tutti nella prima fase. Allora, ti ha convinto? Diciamo che sono partito scettico e siete riusciti a convincermi. Quindi ho deciso di innovare. Mi sono anche comprato sei confezioni di shampoo a secco per i capelli. Così, almeno, fa da sponsor a tutti gli altri potenziali clienti dubbiosi. Grazie mille. Grazie mille, davvero. Gamba. Alcuni selezionatori di V-Eros si sono offerti di sostenere le start-up che ritengono più meritevoli con un endorsement in pubblico. Alla serata, infatti, sono stati invitati imprenditori e manager proprio perché il loro giudizio possa contribuire alla scelta del vincitore. Allora, per il workshop abbiamo un testimonial che è una grandissima manager che non sapeva niente di start-up fino a tre mesi fa. Devo dire che anch'io, quando ho fatto il primo colloquio con Christian, gli ho detto no. Devo dire che ha continuato, 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 insisto, insisto, insisto. Ci siamo messi a fare un lavoro pazzesco sulle operation. Quindi, oggi io sono qui a dirvi che dovete scegliere Washout per tre motivi. TCP, cosa vuol dire? Testa. Ha dimostrato questa azienda di sapere crescere, mese dopo mese. Cuore. Ha deciso di sposare una causa importantissima che è la sostenibilità ambientale. Pancia. Ciascuno di noi può, di per sé, cambiare anche delle piccole cose contribuendo a scrivere la storia del mondo. Bisogna solo decidere di farlo. Quindi, oggi, sono così convinta che ho deciso che io sarò per sempre al loro fianco. Bene. Dina è sempre riuscita a darmi la grinta per continuare ad andare avanti. Tutte e cinque le finaliste sono cinque start-up che noi reputiamo investibili. chiedo a te perché dobbiamo scegliere e far vincere Beerus e quindi investire 800 mila euro in Washout. Hai un minuto per convincere tutti. Noi negli ultimi 18 mesi abbiamo lavorato come dei pazzi per costruire quella che crediamo un'azienda che potrà andare molto lontano. Per farlo non abbiamo mai abbandonato i nostri valori. Abbiamo una fiducia importante nelle persone e crediamo che il loro tempo valga tantissimo. un'altra cosa in cui crediamo tantissimo è il lavoro che nobilita e il lavoro quello che permette di costruire un futuro solido. Per questo noi ci impegniamo tutti i giorni e siamo orgogliosi delle persone che ogni giorno ci permettono di fare un piccolo passo in avanti e ci farebbe piacere che si sentano parte della nostra famiglia quella di Washout. grazie. Per i finalisti i discorsi sono una grande arma per sensibilizzare il pubblico in sala che voterà alla fine delle presentazioni. Fabio Cannavale introduce la prossima start-up finalista. Sono dei ragazzi veramente giovani e dinamici e proprio per questo motivo hanno scelto di cercare di aiutare i giovani. Sono Gerardo Liguori ho 28 anni vengo da Firenze e sono il CEO e co-founder di Start2Impact. Sono Virginia Tosti ho 31 anni vengo da Rieti e sono growth hacker e co-founder a Start2Impact. Essere una coppia sia a casa che al lavoro riduce i tempi morti. Lei si è emozione e timida. È timida. Gerardo sei veramente una sbruffone. No, 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 no. Gerardo li siamo conosciuti durante la campagna del referendum costituzionale. In quel periodo abbiamo notato quante competenze che noi avevamo le avevamo prese non all'università. Vedevamo molto il bisogno di far sapere al mondo guardate che ci sono tanti lavori che stanno arrivando ma che non conosciamo perché non ce li insegnano a scuola. E quindi da lì poi ai vici ci siamo detti sai cosa c'è? Facciamo qualcosa di nostro. Non mi piaceva andare a scuola tanto che sono stata bocciata. Quella bocciatura è stata per me una delle cose che mi è servita di più credo nella vita. Mi sono sentita stupida. Tanto è vero che io ho preso ingegneria non perché volevo fare l'ingegnere perché volevo prendere una facoltà difficile per dimostrare a me stessa che non ero stupida. Da bambino volevo fare il calciatore. chi è lo spietato lo spietato cinico uomo del business? Quello che oggi fa Start to Impact è di mettere in contatto studenti delle superiori con micro imprese del loro territorio e questo nell'ottica di anticipare la loro prima esperienza di lavoro con dieci anni d'anticipo. L'Iro sicuramente è stato importante perché ci ha aperto le porte. Tante aziende hanno cominciato ad ascoltarci di più. e sicuramente non saremmo riusciti a sederci a tavoli così importanti senza l'aiuto di Viros. Siamo carichissimi. Nel percorso che avete avuto con Viros che cosa sono le cose che vi hanno dato maggiore aiuto e beneficio? La cosa che ci ha fatto proprio fare uno zoom out e vedere tutto il processo da un altro punto di vista è stato l'experience marketing con Sketchin. Abbiamo mappato tutte le esperienze di tutti gli utenti che poi noi siamo un marketplace ma abbiamo tre entità perché abbiamo le scuole i ragazzi e le aziende e quindi con loro abbiamo rimappato tutto e abbiamo visto quali erano le cose che potevamo andare a migliorare. Allora anche a voi vi abbiamo messo la prova ovviamente. Abbiamo mandato un grande imprenditore digitale a scuola. Addirittura si è dovuto comprare lo zainetto. e vediamo cosa è successo. È il re dei servizi digitali online. Ha venduto la sua prima startup per 30 milioni di euro. Il tester di Start2Impact è Vito Lomele. Oggi torno sui banchi di scuola per testare il servizio di Start2Impact. Sono proprio curioso di vedere se questo prodotto mi convincerà. Ho trovato il corso di Start2Impact molto bello perché ha approfondito degli aspetti che prima non conoscevo sui social media. Ho scoperto che i social media sono per certe persone un lavoro e non solamente un intrattenimento. Bene ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Io mi chiamo Vito e facevo a scuola come voi. Mi piaceva l'informatica e adesso con l'informatica da un po' di anni ci mangio, ci vivo e faccio vivere altre persone che lavorano nella nostra azienda. L'unica preoccupazione è che io il corso non l'ho fatto. Voi l'avete fatto quindi speriamo bene. Pronti? Cominciare. I ragazzi di Quarta hanno seguito un video corso di Start2Impact sui social media. Ora stanno facendo il test di verifica. Una passeggiata per un imprenditore che fa del digital il suo pane quotidiano. Questa è che c'è la domanda. Cosa mi stavamo qui? La luce. Direi che il test è finito. Il test non era tanto difficile. Vorrei che ognuno di voi aprisse la propria mail per verificare il risultato del test. 97. 97. Benissimo. Eric. 80. Gabriele. 78. Probabilmente ho sbagliato la domanda sull'epic fail. Vito. Madonna. 75. Ho fatto sempre meglio di Vito. Il test l'ho fatto. Devo dire che le impressioni in generale sul test e su come è strutturato sono positive. Guardando il test e la struttura dei contenuti credo che sia fatto abbastanza bene. Migliorerei la fase di risposta perché per chi non ha preso 100 come me sarebbe molto interessante sapere che domande non sono state risposte correttamente. in ogni caso ok per Start2Impact e in bocca al lupo a voi ragazzi. Il lato feedback per noi è sempre utilissimo. Il corso che lui ha fatto era il primo corso che dava un po' le basi quindi poi mano a mano che andiamo cerchiamo di farli un po' sempre più complessi. Il tema è anche cercare di non scoraggiare i ragazzi la prima esperienza. Vito era un po' scoraggiato ma come si può rifare? C'è la cosa che ci ha sorpreso è che sono andati meglio i ragazzi. Anche per Start2Impact c'è qualcuno che vuole rimarcare pubblicamente il loro valore. Stiamo investendo molto sui giovani useremo appunto Start2Impact per capire come meglio di fatto poter veicolare i prodotti appunto che stiamo immaginando per i giovani in particolare il conto giovani e il conto giovanissimi su questa popolazione. Quindi li useremo sia con questa logica ma anche per vedere come metterli in contatto con un nucleo di aziende in un'area territoriale specifica del paese per cui ne hanno di coraggio sono giovani ma insomma riescono a farsi valere. Bravi molto bravi. Io ci credo molto e ci spero molto in voi già so che avete molta strada da fare a mio parere adesso tocca a voi di spiegarci perché dovete vincere ma più voi. Stasera raccontiamo una storia ci è successa qualche giorno fa ovviamente eravamo a un matrimonio di due nostri amici Sicilia posto da favola a un certo punto è iniziato a piovere ma no una pioggiarellina veramente è sceso tipo il diluvio universale quelle quelle sono le situazioni in cui ti rendi conto che puoi decidere puoi decidere se iniziare a piangere oppure se reagire gli sposi hanno reagito e hanno iniziato a ballare sotto la pioggia come i due pazzi e noi siamo tutti uniti a loro e è stata la cosa più commovente che ho mai fatto in tutta la mia vita l'innovazione funziona allo stesso modo non la puoi fermare non puoi decidere diciamo quando arriva puoi solo decidere in che modo reagire l'innovazione è più forte della pioggia è come un'onda una grande onda in cui o sei pronto a cavalcarla o vieni spazzato via quindi i giovani nelle micro imprese cosa possono fare possono esattamente aiutarli a cavalcare questa onda gigantesca che è l'innovazione cosa facciamo noi e perché dobbiamo vincere perché li mettiamo in contatto creiamo un ponte generazionale che è fondamentale per far ripartire davvero l'economia è un pitch bellissimo non vale così hanno quella cosa in più che piace grazie le cinque start-up di Be Heroes giocano le loro carte migliori attenzione parla anche lui una novità assoluta gli investitori hanno fatto tutte le loro valutazioni ma stasera voterà anche il pubblico in sala per concorrere all'elezione della migliore chi riceverà l'investimento da 800.000 euro la start-up che vince è la finale di Be Heroes è ricca di emozioni e anche di colpi di scena è stata la cosa più commovente che abbia mai fatto in tutta la mia vita stasera verrà proclamata la migliore start-up italiana quella che metterà d'accordo analisi degli investitori e giudizio del pubblico in sala io sarò per sempre al loro fianco quale sarà la terza start-up a presentarsi adesso passiamo alla prossima start-up business sano incorporo sano sono Matteo Musa ho 32 anni vengo da Roma e attualmente sono il CEO e cofondatore di Fit Prime io mi ricordo avevo 7-8 anni mi capitavano spesso le partite di rugby in tv e ogni volta che la beccamo la guarda tutto quello fa il giocatore di rugby per l'inizio c'ho il magazziniere e non vedevo l'ora che arrivassero le 5 quindi mi sono detto non era quello che volevo fare nella vita mi sono iscritto all'università dopo un anno anche se la mia catiera alle scuole superiori è stata brillantissima alla fine avevo deciso che lo sport doveva essere un pochino la mia vita io ho conseguito la prima laurea in scienze motorie sportive ho preso poi una seconda laurea specialistica e infine ho preso un'altra laurea ancora sono diventato biologo nutrizionista e poi ho avuto una scalata professionale molto veloce gestivo il più grande centro sportivo d'Europa difficilmente potevo fare di più in quell'ambito il pallino di Fit Prime mi è nato durante il mio ultimo anno di direzione tecnica del centro e un giorno ho avuto questa intuizione di uno spostamento di lavoro e ho iniziato a lavorare a Fit Prime Fit Prime è un centro sportivo virtuale con l'unico abbonamento ti puoi iscrivere in 59 città e 700 centri B-Ross è stato importante perché ha dato ancora più credibilità a quello che stiamo facendo e ci ha permesso di accedere a un network prestigioso di imprenditori potenziali investitori io sono convinto quando ti guardo che tu sei uno che hai una grande sensibilità e un'emozione è vero mi hanno insegnato che non ci si deve affezionare alla propria start-up in pratica se dovessi immaginare un Matteo senza Fit Prime mi peserebbe più la start-up cresce più diventerà qualcosa di grande e più diciamo questo momento di allontanamento non ci sarà mai io sarò lontano del tempo tu che sei sempre così quadrato composto stasera un po' di emozioncina ce l'hai o no? di giusto per la prima volta in B-Ross non la sto facendo veramente sotto tu che sei un uomo di numeri molto quadrato cosa hai ottenuto in questi quattro mesi? in questi quattro mesi siamo cresciuti sotto tutti gli aspetti dell'azienda sicuramente il dato più importante che abbiamo ottenuto poi era quello che volevamo principalmente legato al fatturato che poi è quello che vogliono vedere gli investitori in questo periodo da Fit Prime siamo riusciti in questi quattro mesi a fare quasi un 35% in più il percorso B-Ross che cos'è che ti ha dato di più da cui hai tratto maggior giovamento? allora tra le varie cose sicuramente Facebook e aver avuto la possibilità di un coaching di altissimo livello è stato sicuramente un vado raggiunto che poi ci ha permesso di arrivare all'incremento di fatturato più facilmente allora anche per te c'è un tester ovviamente ma la clip che sta per vedere Matteo non è esattamente quello che lui si aspetta tra gli investitori presenti oggi spero di colpire positivamente Fuatà non so come sarebbe successo e come si chiama quello francese? Fota 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 sembra un piatto vabbè ma chi pensi che mi ha fatto fare il testo? potrebbe essere lui no quello lui è un pugile una clinta quindi forse è un fisico anche migliore del tuo spero non mi picchi alla fine della puntata però l'olane è un simpatico non se la prende responsabile del più grande fondo europeo di investimento ha finanziato centinaia di start-up il tester di Fitprime è Laurent Fuatà io sono viaggiatore e sportivo sono l'utente ideale per Fitprime dobbiamo provare assolutamente quella app per trovare la palestra giusta un codice fiscale cos'è? dopo essersi iscritto Laurent prova l'app qua a stazione centrale ci sono cinque palestre non sapevo che ce n'era così tanto una è molto vicino ma questa è carina vediamo allontanandosi un po' del centro cosa si può trovare prendo un taxi e provo Fitprime in un altro punto della città possiamo andare un po' verso il nord Laurent decide di spostarsi per verificare se il servizio funziona in tutte le zone della città per questo procede per tentativi allora qua ci sono due palestre una di yoga l'altra di box però un po' lontana torniamo in centro a trovare una palestra ma questa volta con la metropolitana eccoci su una delle vie le più importanti di Milano vediamo cosa dice Fitprime eccoci una palestra 200 metri perfetto visto che sto testando Fitprime andiamo a fare l'allenamento ho prenotato su Fitprime prego se è come pure grazie mille abbiamo finito il test di Fitprime è andato benissimo sui tre punti della città abbiamo trovato una palestra l'unica cosa è che quando non si è italiano è un po' difficile da registrarsi sull'applicazione allora cosa dici di questo test fighissimo Doran cosa dici ti è piaciuto hai trovato sempre palestre mi sono divertito tantissimo grazie mille hai visto che ho dato anche di me stesso per sostenerti sono stato comunque tre persone quando eravamo nelle entrate che sono arrivato con Fitprime quindi funzione è davvero complimenti grazie grazie bene c'è qualcuno che vuole dirti quanto vali cosa vedi Davide in lui che ti colpisce quando ci siamo conosciuti come sai ho fatto tanto challenge su di te e credo che questo venga anche dal fatto che tu hai deciso di entrare in un settore che è super competitivo dove l'idea di fatto non era nulla ma la tua grande capacità e la capacità del team che ho conosciuto anche stasera è stata quella del fare una grandissima execution la capacità del mettere a terra e del riuscire davvero a costruire un'applicazione utile che potesse cambiare la vita dei vostri utenti e soprattutto la costanza con la quale ogni giorno riuscite a portarla avanti grazie grazie non mi aspettavo che fosse Davide a fare il discorso su Fitprime perché durante il percorso è stata una delle persone più dure con me però sono stato veramente felice di quello che ha detto io vedo delle analogie in un certo senso ti auguro di essere come Davide che è un intervento di questo successo ma siete delle persone che sembrano fredde all'inizio in realtà questo è perché siete estremamente focalizzati sui risultati è arrivato anche per Matteo di Fitprime il momento di rivolgersi direttamente al pubblico in sala quando abbiamo immaginato Fitprime nessuno pensava che fosse possibile realizzarlo gli acceleratori ci dicevano che non avevamo tutte le competenze specifiche all'interno del team e che il business era troppo difficile da sviluppare in Italia secondo i centri sportivi non saremo mai riusciti a coinvolgere un network su tutto il territorio italiano e poi ci sono quelle volte dove a pensare che non puoi farcela sei tu e quelle sono le peggiori quando entri in ufficio e ti chiedi se quello che stai facendo è la cosa giusta però poi ti ricordi che per fortuna le aziende non si tirano su da soli e basta incrociare uno sguardo di un membro del team e ti ricordi che stai facendo la cosa giusta che devi continuare a perseverare e credo che Fitprime oggi debba vincere per questo motivo perché sarebbe il giusto riconoscimento per tutto il team che ogni giorno rende vivo Fitprime e la migliore risposta a tutte quelle persone che per due anni ci hanno detto il vostro business è figo ma probabilmente non andrete mai da nessuna parte grazie 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 a me piace molto Matteo è un ragazzo super in gamba lo ammiro Beerus è stato un acceleratore di esperienze di legami tra le persone e un aiuto a tutte le start up e penso anche a molti dei mentor che ci hanno aiutato e si sono creati dei legami bellissimi che io spero anzi sono sicuro che non finiranno con stasera con la fine di queste edizioni di Beerus in particolare devo essere grato a quattro persone che mi hanno assolutamente colpito per la capacità di fare impresa e quindi hanno poi accettato di essere i super coach di Beerus e hanno avuto la capacità e la voglia di mettere a disposizione molto del loro tempo per aiutare questi giovani vado io guardo in camera guardo te Beerus è sicuramente ha fatto venire fuori il mood da start up perché abbiamo io e gli altri super coach tutti hanno la stessa voglia la stessa passione di stare un passo avanti Luca Ferrari le app della sua azienda contano decine di milioni di download Luca Ferrari è fantastico è una persona che ha dei grandissimi valori ci ha fatto vedere quanto sono importanti le persone puntare a averne pochi intorno bravissimi credo che Luca Ferrari abbia la capacità incredibile di essere focalizzato sulle persone che lavorano nella sua azienda vorrei che la mia azienda Bending Spoons che è un po' la mia vita in questo momento diventasse una delle aziende più ammirate in tutto il mondo che possa ispirare tanti altri a fare meglio a fare di più Gianluca Comandini guru dei social media e del web marketing i social gridano team coma team coma hashtag ufficiale Gianluca si è speso tanto per le sue start up e spero che continui a farlo ma ne sono sicura lo farà uno dei miei motti è vedo oltre e vado oltre io volevo sparare tipo una frase effetto Gianluca è veramente un portento di energie non so come fa a fare tutte le cose che fa io mi faccio un pisolino lui è molto in gamba nel spendersi in prima persona soprattutto quello che è il tema dell'innovazione della tecnologia io sono un ragazzino perché mi definisco sempre ragazzino e il ragazzino resterò per sempre che ha paura di fermarsi per paura di dover smettere di sognare Davide, Ugo, Luca definizzo un tre Ugo Parodi Giusino ha rivoluzionato il mondo della videostrategie quello che mi piace di Ugo è la sua determinazione il mondo dell'innovazione ogni tanto ti può dare delle enorme mazzate Ugo vive in un luogo meraviglioso ed è riuscito anche in un luogo difficile come la Sicilia costruire un'azienda che oggi è globale con un ufficio in tutto il mondo ha creato un ambiente veramente bellissimo inspirational a Palermo con Mosaicon abbiamo sviluppato questo hit quarter questa sede principale in Sicilia dove abbiamo cercato di creare proprio un ambiente che secondo me è un po' l'ambiente lavorativo del futuro Davide Dattoli 27 anni 23 co-working campus in Europa Davide Dattoli secondo me è un fuoriclasse perché ha le idee chiarissime diventa sempre più fondamentale pensare locale ma davvero agire in modo globale tra le cose che gli riconosco di più è il saper trasmettere e far appassionare le persone al progetto che sta portando avanti Davide insomma è un bellissimo esempio di un italiano giovane che ha voglia di fare Katsuto e che ha saputo dimostrare quei fatti sta dimostrando grande tenacia ma mantenendo sempre uno spirito molto friendly fare un'impresa è spesso talmente difficile che non bisogna mai perdere la voglia di divertirsi di giocare di confrontarsi con gli altri perché è il tema veramente fondamentale era il discorso della vita è stato un onore poter vivere questa esperienza con altri tre supercoaci incredibili grazie farei un bella clausola supercoce che sono stati veramente la base di Viros cosa succede quando un ingegnere e un biologo crescono insieme quindi sono amici dai bambini cercano di cambiare il mondo sono Nicola Calandri vengo da Como ho 29 anni e faccio l'apicoltore tecnologico sono Riccardo Bazzaretti ho 29 anni faccio l'apicoltore tradizionale e tecnologico eravamo al bar dove andavamo sempre da giovani Riccardo mi ha presentato i vari problemi dell'apicoltura non sapeva nulla di come si allevano le api io avevo la passione per le api ma Riccardo invece sapeva quali sono i problemi delle api mi piaceva imparare qualsiasi cosa si potesse imparare sia sulle piante sugli insetti sulla biologia in generale parlando di queste cose abbiamo provato a portare una soluzione all'inizio era un progettino poi abbiamo capito che dietro a quello ci poteva essere un'azienda il tema delle api mi sembra affascinante nel senso che la moria delle api sta generando dei problemi enormi hanno capito ed è per quello che cercano noi perché sanno che hanno bisogno di questa nuova tecnica 3B è una start-up che vuole cambiare il modo con cui si fa l'apicoltura in Italia passando da un'apicoltura basata sui calendari sulla chimica a un'apicoltura basata sui dati noi abbiamo bisogno di un percorso di accelerazione per accelerare sugli investimenti di arrivare all'investitore non soltanto perché facciamo soldi ma perché facciamo qualcosa di utile la mia preferenza va a 3B 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 con questo percorso di accelerazione ci stiamo riuscendo salvando le api si rallenta il declino di tutte le specie biologiche nel mondo se noi come 3B possiamo dare una mano affinché questo venga rallentato ulteriormente abbiamo un buon peso etico alle spalle 3B aiuta gli apicoltori a salvare il mondo non siamo noi direttamente abbiamo sempre un intermediario che è l'apicoltore quanti anni ha un apicoltore in media in media dai 30 ai 35 anni sono tutti giovani quindi si diciamo che ci sono varie fasce di età attenzione parla anche lui si si parla anche di solito fate un applauto fate un applauto perché è una una novità assoluta dopo 4 mesi lo aspettiamo a parlare io di solito io di solito sono quello che non parla e non parlerà neanche questa volta e non parlerà neanche stavolta forse chi lo sa che progresso abbiamo fatto in questi 4 mesi abbiamo accelerato alla grande siamo partiti senza essere sul mercato siamo arrivati sul mercato a marzo abbiamo venduto i primi 100 prodotti abbiamo trovato poi partner per sviluppi futuri su altri allevamenti sicuramente suini e polli prenderemo i dispositivi li adatteremo e cercheremo di ottimizzare gli allevamenti degli animali riducendo i trattamenti antibiotici i trattamenti chimici già quest'anno l'anno prossimo già quest'anno lo faremo in base agli investimenti da settembre a ottobre il nostro processo di sviluppo è abbastanza complesso e richiederà molto lavoro molti sforzi e molti capitali ovviamente vi abbiamo testato vediamo come andrà è l'eroe del gelato made in Italy ha più di 60 negozi sparsi in tutto il mondo il tester di 3B è Federico Grom lo fa il testico siamo oggi dove produciamo la frutta per i nostri negozi ma siamo qua per una cosa diversa ho chiesto ad Andrea il nostro apicultore di provare Hive Tech di 3B uno strumento innovativo per verificare la funzionalità delle api all'interno delle arnie speriamo che il test vada bene quanto è importante registrare le condizioni delle api e il loro comportamento allora la visita dell'apiario serve in questa stagione qua per prevenire un fenomeno che è naturale per una famiglia di api che è la sciamatura si creano gli sciami attaccatele gli sciami che si attaccano dagli alberi l'ho visto una volta si era attaccato qua per un apicoltore è molto dannoso una perdita repentina di peso potrebbe ad esempio darmi il sintomo di una sciamatura venuta se tu da remoto registri queste perdite di peso repentina può intervenire posso intervenire e magari recuperare lo sciame andiamo a vedere come funziona sul computer ma ce n'era una prima che mi hai seguito per un po' perché poi rimangono incazzate quali sono i dati che vengono raccolti? la temperatura l'umidità e poi ci dà l'intensità sonora secondo me possono essere sufficienti per fare dei ragionamenti sulle nostre arnie se te guardi si vede come il peso stia diminuendo questo perché c'è bel tempo e le api stanno uscendo dalla casetta per andare a bottinare il nettare questo strumento ritieni possa esserti utile se io ho un'apda remoto e vedo che c'è stato un crollo dei pesi dell'attività anche sonora posso venire a mura a mura e riparare ai danni Nicolò Riccardo alla fine ci siete piaciuti andate avanti così complimenti spiace che Federico stasera non è voluto venire ma è una delle colonne di Biroz una bellissima sorpresa sappiamo che ci sono ancora alcune cose da migliorare ma lo stiamo facendo anche i 3B possono contare su un endorsement importante mi ricordo quello primo pitch da Biroz quando siete arrivati fino a oggi vedo che siete arrivati con una determinazione ma anche una sincerità che è stata bellissima un'energia animale e una capacità adattarsi alla fine ai codici di comunicazione del pitch la strutturazione delle idee vedo che anche Nicolo stasera si è messo la giacca di solito non mi metto mai la giacca neanche al mio dottorato l'ho fatto se non ricordo male sempre t-shirt vestito un po' come viene quindi un progresso straordinario ma soprattutto io ritengo che sia dalla start-up come attività ma anche come personalità di voi due una nobiltà si dice forse in italiano naturale che è bellissimo e che è stato un regalo per tutti quindi grazie mille grazie a te grazie bene adesso dovete convincere me gli altri investitori che ci sono in sala e dirci perché dobbiamo dare 800.000 euro a voi esistono persone che come lavoro fanno l'ape si svegliano al mattino si arrampicano sugli alberi per impollinare perché le api sono scomparse esistono caserme palazzi di 13 piani in cui gli animali sono stipati uno sopra l'altro e lo sviluppo delle malattie è così veloce che è imprevedibile questo è il mondo attuale questa è la strada che stiamo prendendo ma è veramente l'unica per noi no per le tre bici è qualcos'altro noi vogliamo passare da un allevamento basato sui trattamenti a un allevamento basato sui dati abbiamo iniziato con le api migliorando la qualità di vita degli apicoltori passeremo agli animali eliminando gli antibiotici questa è la nostra visione questa è la nostra missione quello che ci spinge tutti i giorni per andare avanti ma il punto principale è un altro voi che strada seguirete grazie 3b veramente ci ha toccato il cuore il pubblico di addetti ai lavori presente in sala stasera ha una grande responsabilità perché contribuirà alla scelta della migliore startup italiana vogliamo capire qual è quella startup che mette insieme il giudizio degli investitori e il giudizio della sala per ricevere 800.000 euro di investimento be heroes è stato un percorso lungo e denso di emozioni spero non mi piccia alla fine della puntata ma il traguardo è sempre più vicino voi in strada seguirete una delle 5 startup finaliste sta per ricevere un investimento di 800.000 euro chi tra loro potrà far esplodere il suo business qui c'è il nome della vincente sta per salire sul palco l'ultima startup loro sono i più pratici un'azienda che mira una piccola grande rivoluzione direttamente nel portafoglio delle famiglie sono Andrea Lacaramita sono nato all'Aquila 47 anni fa e sono il founder di Onpal sono Monica Regazzi ho 48 anni e sono il CEO di Onpal sono Fabio Marra sono nato lo stesso giorno lo stesso mese e lo stesso anno di Monica Regazzi e sono un founder di Onpal con Andrea ci siamo sempre frequentati fin da quando eravamo giovani stagisti poi un giorno lui se ne esce con questa idea dice guarda ma perché secondo me c'è il mercato dell'immobiliare vecchio si possono fare tante cose abbiamo incominciato a costruire uno diceva un'idea uno l'altra la visione è cambiare il mercato immobiliare questa è una realtà che ha respiro internazionale la startup è fatta di velocità di decisioni improvvise di cambiamenti avevamo tante di quelle cose aperte ci siamo ritrovati invece in quest'ulteriore acceleratore del CERN che ti porta ste particelle te le fanno volare alla velocità della luce è sicuramente un modo per spingere ancora di più su quello che stai facendo voi che siete così vecchi come vi sentite a fare gli startup è un'esperienza incredibile all'inizio non è stata una scelta facile però devo dire che confrontandomi con mio marito lui mi diceva questa opportunità è l'unica cosa che ti fa brillare gli occhi la famiglia è fondamentale perché la famiglia deve star vicino economicamente non è che sia proprio entusiasmante all'inizio mia moglie Francesca tra i ragazzi o due figli devo dire che su questo sono abbastanza folli per poter credere in questa cosa quando sei di fronte a un'idea che è forte devi rimettere tutto in gioco e devi crederci poter fare qualcosa partendo da un'idea e vederla poi realizzata è sicuramente una delle cose più belle della propria vita la cosa che mi ripeto sempre è che avremmo dovuto farlo prima siamo riusciti a farvi cambiare qualcosa del vostro servizio in questi quattro mesi certamente tante cose grazie all'aiuto di Bonelli Erede abbiamo rivisto il nostro impianto societario noi veniamo da grandi aziende quindi è già tutto pronto qui devi rifare tutto tutto quanto da capo capire come deve essere l'assetto organizzativo devo dire che l'Iros ci ha dato molto una mano bene vediamo anche il vostro test oh ragazzi io non sto tranquillo per niente nemmeno io è un campione dell'innovazione la sua missione è accelerare la trasformazione digitale il tester di Homepal è Enrico Noseda a tutti noi capita o è capitato di dover comprare o vendere una casa e sappiamo quanto questo processo può essere complesso e quanto tempo richiede oggi siamo qui a testare un servizio nuovo il servizio si chiama Homepal come prima cosa pubblichiamo un annuncio allora ho preso le misure di uno dei nostri uffici qui in Cari Pro Factory e vediamo Homepal quanto me lo valuta si affaccia su via Bergognone via Tortona quindi il centro del distretto della moda di Milano la stima è 148 mila euro che devo dire non è male considerato che è uno spazio chiuso di 25 metri quadri senza finestra e senza bagno e senza cucina il costo per la pubblicazione dell'annuncio per un anno è 29 euro quasi quasi lo metto in vendita davvero ora testiamo un altro servizio cercherò di procurarmi qualche appuntamento con chi sta cercando di vendere caso per avere un loro punto di vista fingendosi interessato all'acquisto Noseda ha prenotato la visita di un appartamento e ora si sta recando ad incontrare il proprietario speriamo che la signora si ricordi dell'appuntamento eccoci per la casa prego si accomodi prego grazie mille faccio vedere il salotto molto bello in realtà le devo dire Laura che io non sono qui a vedere la sua casa non mi interessa no sono rimasta un po' spiazzata Noseda spiega alla signora che sta testando la qualità del supporto offerto da HomePal agli inserzionisti del sito ve lo vede grazie grazie lei ha messo in vendita la casa su il sito HomePal gli appuntamenti li ho sempre gestiti io però sinceramente non è stato così gravoso perché il cliente in dieci minuti un quarto d'ora l'appartamento l'ha visto HomePal ha dato forse un valore in più dal punto di vista professionale soprattutto loro sono sempre a mia disposizione per qualsiasi problema o difficoltà o quesito senta la ringrazio non ho veramente altro da chiedere perché è stata ampiamente esaustiva grazie mille prego dunque abbiamo incontrato una start up che a mio parere può rivoluzionare il mercato immobiliare l'unico suggerimento che mi permetterei di dare ai ragazzi di HomePal è quello di eliminare completamente la fine dei 29 euro per stimolare venditori e persone che hanno casa da affittare a popolare il loro sito sicuramente il tuo suggerimento lo recepiamo con grande piacere grazie secondo me il servizio è eccezionale come dicevi qualità la stessa di un'agenzia immobiliare probabilmente superiore il sito è ben fatto e il costo è una frazione di quella di un'agenzia bravi ragazzi grazie voglio sentire anche invece un endorsement da un business angel di altissimo livello che proprio fa questo diciamo di lavoro e che potrà darci un parere su di voi io penso che HomePal meriti di vincere Big Heroes per due motivi il primo è che se pensiamo che ognuno di noi comprerà o venderà casa in Italia forse due, tre, quattro volte nella vita ogni cliente ve lo dovete riconquistare ogni volta non c'è il cliente fidelizzato ogni cliente è una montagna da scalare quindi complimenti per il coraggio il secondo motivo è che spesso in Italia pensiamo alle start-up come un gioco da ragazzini questo non è un gioco da ragazzini una persona super autorevole ma ha detto delle cose meravigliose e sono tutte vere quindi siamo io sono commosso grazie Paola niente adesso quindi tocca anche a voi fare il vostro speech è l'ultimo poi dopo subito di voi si vota quindi avete il vantaggio di essere gli ultimi potete toccare le corde emozionali del pubblico un minuto per dirci perché dovete vincere voi un pal è nato per uscire dalla crisi del mercato immobiliare un pal è nato per aiutare tutti a realizzare il proprio sogno quello di comprare o affittare la propria casa risparmiando un sacco di soldi un pal è semplice nuovo e democratico brilla del giallo di un pal della passione della voglia di mettersi in gioco a 50 anni dopo 20 anni di esperienze in grandi aziende e brilla perché siamo emozionati perché in un pal non c'è trucco e non c'è inganno e meritiamo di vincere perché ieri Giulia Silvia Francesco e Giovanni hanno venduto la loro casa spero anche insieme alla signora che avete visto per 490 euro questa è la rivoluzione grazie per noi un pal sono 5500 appuntamenti ma ognuno è una persona che cerca casa per mille motivi e questi motivi a noi stanno a cuore perché sono l'anima di un pal le persone e non i numeri avete conosciuto bene le 5 start up Washout l'app per lavare auto e moto Start to Impact il link tra under 20 e imprese Fit Prime l'abbonamento globale alla palestra 3B sistema di monitoraggio per apicoltori 3.0 HomePal l'agenzia senza i prezzi di agenzia adesso è il momento anche per voi di votare vogliamo capire qual è quella start up che mette insieme giudizio degli investitori il giudizio della sala per ricevere 800.000 euro di investimento quindi adesso voi potete votare beheros.it slash vota non mi aspettavo che venisse data la possibilità al pubblico di votare ne sono felice perché molto spesso nei pitch riesco bene e quindi secondo me è un'altra segreta che potremmo usare sono anche dei manager degli imprenditori quindi penso che possano capire a fondo il nostro modello aspettando l'elaborazione del voto del pubblico in sala beheros vuole assegnare due premi speciali a due start up che hanno partecipato al programma e si sono distinte questi riconoscimenti si trasformeranno in investimenti mirati il primo primo speciale è il premio fintech chiamo Stefano è una start up sicuramente molto interessante è una start up che è orientata a trattare un tema importante ma in modo molto simpatico cool io sono solo molto contento di averli incontrati di seguirli e di accelerarli perché poi di questo si parla la start up che vince il premio fintech è oval money complimenti ci tenevo e quindi sono molto contento è un modo più fresco più immediato più giovane potremmo anche dire per poter risparmiare beh il risparmio è serio ma lo rendiamo un pochettino più simpatico perché lo rendiamo facile semplicemente abbiamo intercettato in quelli che sono un po' la nostra generazione anche quelle che sono un pochettino più giovani la volontà di farle in una maniera più divertente grazie mille grazie i premi servono a mettere un po' dei puntini sul o dei punti sul calendario e dire quel giorno lì ho preso il premio e da lì ho fatto qualcos'altro sono cresciuto dopo il premio fintech invito mario costantini e carlo mango per il premio scale up in italia ci sono delle start up meravigliose e il nostro sogno è far sì che queste start up meravigliose possano di fatto decollare diventare la nuova economia che vedremo nei prossimi anni la start up quindi che vince il primo scale up è Bluebrake che invita a salire sul barco Bluebrake fa un sistema innovativo per il freno delle biciclette sia biciclette elettriche che biciclette da corsa è un premio che pensiamo sia estremamente importante frutto della collaborazione con l'innovation center di Intesa San Paolo che è un premio da 150 mila euro complimenti ci crediamo è in bocca al lupo ciao grazie siamo arrivati alla conclusione sono contento che ci sia qua Stefano perché vogliamo spiegare insieme che cos'è il premio di Beerus il premio di Beerus è un investimento di 800 mila euro che è fatto da Bustiros che è un veicolo di investimento di circa 50 soci molti presenti qua e da Banca Intesa San Paolo quindi un investimento non è un regalo ma è prendersi dei soci a entrare in una società dare soldi ma dare anche consigli e aiutare la startup e aiutare la startup a crescere le startup sono il futuro di un paese perché poi noi li chiamiamo startup in realtà è nuova imprenditoria e questo paese vive di imprenditoria per fiducia sul futuro perché poi alla fine è guardare avanti chiamerei sul palco le startup adesso è il momento in cui veramente si deve fare la differenza penso che quando finirà tutto mi mancherà davvero Emozionati? Sono oggettivamente un po' emozionato questa volta Qui c'è il nome della Vincente Io firmo qua il contratto della Vincente Sono soldi veri in questo momento che vengono a voi Non sono quasi mai emozionato Oggi è diverso non so per quale motivo l'atmosfera ansiogena non lo so che creiamo un'ansia inaspettata Sono tesissimi Dai Vi abbiamo analizzato vi ho estezionato ho fatto parlare con i coach visto rivisto ormai vi conosciamo o meno a dito È arrivata è giunto il momento o dentro o fuori Dopo questi quattro mesi dopo avervi conosciuto bene non mi rimane che di annunciare la start up che ha messo d'accordo l'analisi degli investitori e il gradimento del pubblico qua in sala è Washout Brava Tutti su complimenti Start up fate virus perché è una figata è divertentissimo non dormirete per quattro mesi ma ne vale veramente la pena sia che si vinca che non si vinca In questi quattro mesi abbiamo imparato tantissime cose adesso con questo investimento di 800 mila euro le metteremo tutte in pratica per andare alla velocità della luce e diventare una grande azienda il prima possibile e chissà dove possiamo arrivare Sono contento per Cristian perché è veramente una persona fantastica Washout probabilmente è molto più investibile degli altri Siamo contenti per lui ovviamente noi eravamo qua per vincere Sono effettivamente colpitissima come noi a qualsiasi età con qualsiasi esperienza possiamo imparare tanto ma veramente tanto dai nostri giovani quindi il mio consiglio è adottate tutti una start up Io non sono un romanticone però oggettivamente a breve divento papà quindi questo magari glielo mettiamo nella culla per dirgli spacca anche tu crescendo Grazie Noi sicuramente replicheremo Beiros vuole essere un appuntamento annuale perché è un investimento sul futuro è anche una modalità per dare ulteriore spinta a tutti coloro che hanno un sogno e poterlo realizzare come abbiamo visto Grazie a tutti Ci rivediamo l'anno prossimo Grazie Beiros Segui Beiros anche online Allora come inizio? La cosa che mi fa più felice di tutto è In the zone Allora sì Allora vedono vedono Novese Riparla Ripamola Ripamola cavolo E arrivaccio Grava Cioè quindi io sto teoricamente sto là ma non sto là perché sto qua quindi guardo il video Ok quindi che è la domanda? Scusa siamo prima siamo dopo Adesso qui lo dico al passato cioè già l'ho visto un momento lo sta lì Al presente Non funziona? E dici sta qui devo guardare Ah comunque lì Posso aggiungere una cosa? No No come no Così basta? Proprio il no imperativo poi Stava lì in silenzio No Quindi questa roba non la dico ovviamente Ok Questa ma tagliamola per piacere